Una partita importante come tante altre, però ha un sapore diverso, ci giochiamo tanto visto che abbiamo davanti l'Entella, la Cremonese a tre punti sotto. Quindi è una partita molto importante contro una compagine attrezzata all'inizio per vincere il campionato. Il campionato è lunghissimo ancora, è una partita non fondamentale perché per noi sono tutte fondamentali, quindi sarebbe scontato. Per il morale sì, perché andiamo a giocare contro una compagine che da tanti anni prova a vincere questo campionato senza riuscirci. Quindi il nostro augurio è quello di farli sperare ancora per un bel po' di tempo. Sicuramente sì, troveremo un ambiente un po' particolare con nervi tesi perché non arrivano da un bel momento. E quello sinceramente non è che mi preoccupa. Quello fa sì che bisogna avere molta attenzione. Ho saputo che hanno contestato in settimana i tifosi, quindi è una squadra che avrà un approccio diverso, visto che ultimamente ha sbagliato un po' l'approccio nelle partite che ha fatto. Quindi troveremo una squadra compatta, aggressiva, che avrà una cattiveria forse in più, perché comunque ci tiene a fare bene. E questa partita per loro casca a pennello, perché comunque hanno l'opportunità di dimostrare contro una Provercieri che in questo momento sta bene, che sono una buona squadra. Quindi da parte nostra sappiamo che troveremo una squadra guerrita. Quindi forse è quello che un po' più delle altre volte ci deve far riflettere e affrontare questa partita con un grande temperamento. Per il bel reduttivo io non voglio nemmeno nominare perché sinceramente penso alla Provercelli. Comunque ci sono tanti giocatori importanti, Abbruscato, Loviso, abbiamo Lex Caridi, Gasoli. È una squadra comunque di grande rispetto per la categoria. Sì, 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 sono un po' di anni che giochiamo contro. Quindi io sono un po' scaramantico, come la maggior parte dei calciatori. Però l'ultima volta che ho giocato contro ho fatto gol e viene finito 1-0 e la regina ha fatto i play-off. Quindi scontro al vertice. Tu hai fatto il gol? Ho dei bei ricordi. Sì, ma ancora non mi ha buttato da dentro, è quello del problema. È inserito, sì, benissimo, però le statistiche sì, alla fine gol 0. Io ho detto sempre comunque, sono delle... Ma se hai risultati? No, i risultati sono fondamentali, ma comunque io ho detto sempre. In una partita del calciatore ci sta quando becchi quelle annate un po' che iniziano male e finiscono peggio. Poi quando ci metti dentro e comunque anche la squadra fa male, tutto risalta un po' di più. Comunque è un risalto diverso, quando soprattutto su un giocatore si punta tanto. Quindi non sono il primo, non sarò l'ultimo, anche perché il calcio è bello per questo. Quindi io devo sempre continuare su questa strada qui. Ho avuto un po' di soddisfazioni, ma ancora siamo all'inizio. Quindi ci tengo a continuare ancora così. No, 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 no Grazie a tutti.